Ma ci è capitato anche in casa, oggi abbiamo sciupato tanto, abbiamo creato e sciupato e quindi da questo punto di vista abbiamo perso due punti. Secondo tempo in alcuni momenti abbiamo cominciato a fare qualcosina che non dobbiamo fare, giocando un po' col braccino corto, qualche timore, loro però poi buttavano questa palla avanti a cercare questa profondità, a giocare sulla seconda palla, ci hanno allungato un po', in alcuni momenti si sono messi paura, siamo stati meno continui rispetto al primo tempo, però comunque nei 90 minuti sono due punti persi perché abbiamo fatto 7-8 occasioni importanti, a volte non concludendo, a volte tante altre volte concludendo male, però poi la squadra ha giocato, ma comunque è vero che fuori casa e in casa abbiamo una personalità, io dico, diversa, siamo meno, e quindi anche in questo dobbiamo crescere perché la personalità non è che si compra al supermercato, è quello di applicare i criteri di gioco sempre, in alcuni momenti ci abbiamo un po' rinunciato forzando un po' la giocata, avendo un po' qualche dimore di esporci, invece no. Ed è questa la crescita che dobbiamo fare, però comunque il pareggio lo dobbiamo accettare perché la squadra ha giocato. Ma i cambi, gli step per poter cambiare erano terminati, quindi non è una questione di attaccanti, metti dentro uno, metti dentro l'altro, le riaggressioni, loro hanno rinunciato a giocare, hanno giocato sempre alla palla lunga, poi riaggredire nel momento in cui l'affressario prova a giocare, quindi questo si è visto meno, ma la squadra ha fatto la partita che doveva fare per il tipo di partita che abbiamo giocato, lo avremmo potuto fare con più continuità, quello sì, non sempre siamo stati continui e martellanti nella proposta, però comunque abbiamo creato 6-7 situazioni importanti e devi fare gol, e questo è il fatto, è che poi le partite prendono un'inizia diversa, cambiano, però complessivamente la squadra ci ha provato, questo piccolo step sul piano della personalità, come dicevo prima, lo dobbiamo fare. Enormi secondo me, in tanti ragazzi che si affacciano per la prima volta a categorie importanti, a tornei anche di responsabilità, molto ampi ce li abbiamo, sono convinto di questo. Per fare questo dovremmo essere perseveranti in allenamento e metterci in mente di applicare sempre i criteri di gioco che abbiamo, perché non siamo bravi né a speculare, né a trovare l'episodio, a incanalarlo al nostro vantaggio, l'episodio decisivo. Riusciamo a creare tanto, perché anche oggi l'abbiamo fatto, contro una squadra che seppure sposta, perché nel primo tempo abbiamo fatto 5-6 ripartenze importanti in cui li dobbiamo castigare, ma la partita poi sarebbe stata un'altra partita. Sì, allora guardando anche alla sfida prossima con Latina, il Benevento ha ritrovato Borello, che a breve lo avremo proprio ai nostri microfoni, Ferrara, ma soprattutto ci sarà anche il rientro di Acampora, quindi l'infermeria che si inizia a svuotare, un Benevento che potrà anche cambiare volto, e questo è un aspetto importante per l'imprevedibilità. Questo lo dobbiamo fare attraverso il lavoro, da domani si ricomincia e prepareremo questa partita nel modo adeguato, rientreranno dei giocatori, io me lo auguro che sia così, poi quando saranno definitivamente con noi avremo la certezza, però questa è la settimana di lavoro che ci aspetta, per quanto riguarda la partita di oggi avremo potuto vincerla.